Gli ultimi mesi di Chiara Ferragni sono stati travagliati da problemi professionali e personali. Ora è emerso quanto denaro ha perso a seguito dello scandalo legato al Pandoro e alla beneficenza. L'imprenditrice digitale è stata indagata per truffa e multata, e presumibilmente dovrà difendersi ancora per un bel po' di tempo da queste accuse. Inoltre, Chiara Ferragni ha attraversato una crisi coniugale con il marito Fedez, con il quale sembra ormai separata. Ma concentriamoci sulla sua situazione economica. Quanti soldi ha perso? Parliamo di una cifra notevole, che ha avuto impatti sia emotivi che finanziari. Non si tratta di somme di denaro irrilevanti, Chiara Ferragni ha dovuto rinunciare a una considerevole fetta di guadagni. Per fare chiarezza, il giornale, attraverso il giornalista Giordano, ha analizzato la situazione. Da dicembre ad oggi, Chiara non può più contare su 500.000 follower. Ogni post su Instagram contenente uno sponsor le permetteva di guadagnare 93.000 euro. Considerando che tendenzialmente ne pubblicava 10 al mese, ciò significa che ha perso 1 milione di euro. La stima delle perdite economiche per i primi tre mesi del 2024 è devastante. Il giornale ha rivelato che 5 milioni di euro sono stati persi nel primo trimestre dell'anno. Nonostante abbia ripreso a pubblicare regolarmente sui social, i danni del passato sembrano irreversibili. Insomma, la situazione economica e personale di Chiara Ferragni sembra essere in uno stato di caos totale. Non ci resta che aspettare e vedere come si evolveranno gli eventi. E quando dico merda non dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto, però è pesante. Quindi capitemi se ogni tanto pubblico meno, se ogni tanto sono un po' nei miei pensieri, eccetera. Cioè faccio quel che posso, cerco di fare sempre quel che posso e a volte sono più in up e a volte sono più in down. E non so, penso sia giusto anche farvi vedere questa parte. Cioè non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto che non fingere che tutto vada bene, che io sia felice come una Pasqua e forte. a volte vorrei essere meno forte, essere solo un po' più serena, appunto.